È un sistema alimentare squilibrato e troppo industrializzato, quello che non riesce a eradicare la fame e incoraggia l'obesità, un sistema che va cambiato. Questo è il messaggio inviato dalla FAO e dall'OMS in apertura della seconda conferenza mondiale sulla nutrizione che si tiene a Roma davanti ai rappresentanti di 170 governi. Negli ultimi 20 anni la fame è stata ridotta del 21% a livello globale, in compenso è emersa una nuova sfida, quella dell'obesità. C'è qualcosa di sbagliato, afferma la direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre una parte del mondo muore di fame, un'altra raggiunge picchi di obesità tali da far arretrare le aspettative di vita e far lievitare i costi sanitari a livelli astronomici. Agricoltura sostenibile, acquacoltura e maggiore educazione al cibo sono indicate come alcune delle armi con cui combattere la malnutrizione, specie nei paesi più povri o in via di sviluppo. Ma in queste regioni la situazione è aggravata anche dai cambiamenti climatici, dalle guerre dalle epidemie come quella del virus Ebola. La conferenza mondiale sulla nutrizione dura tre giorni, giovedì è atteso l'intervento di Papa Francesco. Dai ministri italiani intanto è arrivato un accenno a Expo 2015, considerato un'occasione per un confronto sulla sicurezza alimentare.